Shalom, Shalom, Shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio ringraziare e dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawah Bahashem Yahawah Shai Bahashem Rukah Kodash. E questo è detto nella lingua ebraica antica che vuol dire tutti i lodi al Padre Yahawah nel nome di suo figlio Yahawah Shai e nel nome dello Spirito Santo Rukah Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone per avermi insegnato questa verità che sto per condividere e miei saluti come sempre alla Casa di Israele, a coloro che con sincerità cercano la verità e la mettono in pratica e a coloro che fanno arrivare questa verità ai quattro lati della terra. Shalom, Miei saluti. Questa lezione sarà, questa lezione sarà sull'Apocalisse capitolo 7. Per coloro che vogliono vedere le lezioni che abbiamo fatto in precedente, magari c'è qualcuno di nuovo che sta guardando questo video. Ne ho già fatto in precedenza, ne ho già fatto due video riguardo il capitolo 6 e anche il capitolo 5 che sono molto importanti per farvi capire il resto. Sono video con delle immagini che vi aiutano a capire molto bene questo libro di Apocalisse, visto che è un libro molto difficile da capire senza lo spirito. Ok, detto questo, colui che non è stato dato questa conoscenza di conoscerla, non importa quanto può essere bravo l'insegnante a spiegare questi libri qui, non lo capirà lo stesso. Perciò coloro che capiranno questi messaggi sono stati già destinati e lo vedranno e lo capiranno. Ok, iniziamo leggendo dal versetto 1 che dice Ok, come sapete questo versetto non sta parlando altro che la distruzione nucleare che arriverà sulla terra. Ok, sulla maggior parte dei paesi, soprattutto America che è Babilonia, anche Israele sarà bruciato di questa bomba nucleare qui. Per capirne di più andate a vedere i video che ho fatto in precedenza sul libro di Apocalisse 5 e il libro di Apocalisse 6. Andiamo avanti. Avete visto di quello che stavo parlando prima? Ok, questi angeli, questi quattro angeli volevano far soffiare quest'aria che è la distruzione nucleare. Ok, e questo angelo li ha tenuto, li ha detto di non farlo. Ok, e infatti avete visto che quei quattro angeli avevano il potere di devastare la terra e il mare attraverso la distruzione nucleare. Questo soffio d'aria rappresenta la distruzione nucleare. Ok. Su altre versioni qui vedrete la parola sigillato. non segnato, 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 ok? E questo non sta parlando altro che i eletti che sono 144.000 della casa di Israele, poi li vedremo andando poi avanti. Poi, udi quanto erano? Infatti, cosa volevo dire? Questo sta succedendo in questo momento qui, ok? Infatti, questo versetto che sto per leggervi, che dice Poi, udi quanti erano insegnati? Erano 144.000, presi da ogni, ognuna delle tribù di Israele. Avete visto? Quelli che saranno salvati, saranno tutti israeliti. Perciò, questo dà un no, no, sempre alla falsa religione cristianesimo di tutte le chiese che dicono che saranno tutti salvati. Il padre non torna per nessuno altro che il suo popolo. Il suo popolo è il popolo di Israele, ok? E dice Poi, udi quanti erano insegnati, che la parola più giusta sarebbe sigillati. Erano 144.000, presi da ogni, ognuna delle tribù di Israele. 12.000 della tribù di Giuda. 12.000 della tribù di Ruben. 12.000 della tribù di Gad. 12.000 della tribù di Assa. 12.000 della tribù di Neftali. 12.000 della tribù di Manasseh. 12.000 della tribù di Simeone. 12.000 della tribù di Levi. 12.000 della tribù di Issacar. Saccar, 12.000 dalla tribù di Zebulon, 12.000 dalla tribù di Giuseppe, 12.000 dalla tribù di Beniamino. Ok, infatti io avevo fatto, sì, infatti facciamo sempre vedere, perdonatemi un attimo, facciamo sempre vedere questa segna qui, dove ce l'ho adesso? Ecco, queste sono le 12 tribù e come sono sparsi al mondo oggi, ok, la tribù di Giuda, così chiamata Giuda, sono i così chiamati negri, ok, e a questa casa pattengono tanti europei, ok, perché i negri, i così chiamati negri, che sono i mori, hanno preso dominio per più di mille anni sull'Europa, su tutta Europa, e si sono mescolati con tutte le nazioni che erano attorno, ok, e hanno fili che non sembrano mori più. Sono diventati con la carnagione bianca, così chiamato bianca, che alla fine non esiste nessuno bianco e nessuno nero, esiste diverse gradazioni di rosso e diverse gradazioni di marone, ok. Perciò tanti figli di Israele che appartengono alla casa di Giuda non sono più visibilmente negri, ce l'hanno solamente nel sangue, ok, ma vedendoli possono sembrare i caucasi, ok, biondi e tutto, ma alla fine sono i figli di Israele della tribù di Giuda, ok, la tribù di Beniamino sono gli indiani dell'Ovest, Levi sono gli haitiani, Simeone sono i dominicani, Zebulon sono i guatemaliani, ok, a Panama, Efraim sono i puatoricani, Manasseh sono i cubani, ok, La tribù di Gadd sono i nordamericani indiani dell'Ovest, ok, che sono, sì, gli americani li hanno preso la terra, erano loro che avevano quella terra prima dell'arrivo degli americani, ok, La tribù di Ruben sono gli indiani seminoi, ok, la tribù di Natali sono gli argentini e ciliani, ok, Asha sono i colombiani a Uruguay e la tribù di Isaka sono i messicani, ok, ora torniamo, ok, abbiamo visto E questa cosa qui sta succedendo in questo momento qui, ok, tutti questi tribù si stanno, i padri stanno facendo il lavoro e l'angelo li sta già sigillando, ok, Coloro che hanno trovato questa verità, che si sono svegliati a questa verità, sono usciti da tutte le religioni e hanno avuto il coraggio, ok, Di mollare tutte le cose che li legava a delle calunnie di questo mondo, coloro che hanno accettato il nome vero del padre che è Yahawa e chiamano e pregano a questo nome E coloro che hanno accettato il vero nome del figlio che è Yahawa Shai, che pregano a questo nome, sono questi, sono questi che sono parte degli eletti, ok, Che abbiamo visto che sono 144.000, ok, e sono 12.000 per tribù, ok, perciò chiunque vi predica che tutto il mondo sarà salvato, sono delle foglie assurde, ok, Sono delle bugie mondane, filosofie di tenebre, ok, bugie assolute, ok, uscite e scappate via velocemente da quelle persone lì Andiamo avanti, ok, da versetto 9, e dice, dopo, anzi, sì, siamo al versetto 9, dice, Dopo, vedi ancora un grande folla di persone di ogni nazione, popolo, tribù e lingua, che nessuno riusciva a contare, stavano di fronte al trono e all'agnello, vestite di tuniche bianche e tenendo rami di palma in mano, gridavano a gran voce, ok, La salvezza appartiene al nostro potere, Yehawah, a lui che sta seduto sul trono e all'agnello, Yehawah Shai, ok, Qui tanti diventano confusi, ok, prima ha parlato della tribù di Israele, poi vi dico sempre che un terzo della casa di Israele sarà salvato, Infatti si vede nel libro di Zeccaria, Zeccaria, mi sa, nel capitolo 4, ok, da versetto 1, che dice, due tezzi saranno distrutti con i malvagi, ok, E un terzo sarà salvato, ok, e quella folla si sta parlando di questi qui, e ora andiamo a vedere chi sono questi, ok, E la risposta è sempre qui nel libro di Apocalisse, capitolo 5 e versetto 8, che dice, Allora, allora, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si inginocchiano davanti all'agnello, che è Yehawah Shai, Ognuno di loro teneva in mano un'arpa e una coppa d'oro piena di incenso che rappresenta le preghiere di quelli che appartengono al Signore, E insieme cantavano un canto nuovo, tu sei degno di prendere il libro e di aprire i suoi sigili, Perché sei stato ucciso e con la tua morte hai procurato a Yehawah un popolo tratto da ogni tribù e razza, nazioni e lingua, E li hai fatti regnare con te, sacerdoti al servizio di Yehawah, essi governeranno la terra, ok? Infatti avete visto la nazione di sacerdozi, ok? E per farvi capire ancora molto più profondo andiamo a vedere chi sono questi, che sono i santi, ok, del padre, Possiamo vederlo anche nel libro dei salmi, Infatti io consiglio sempre di andare a vedere video che ho fatto in passato, che ce ne sono molte più prove, ok? Qui stiamo andando così veloce e questo è salmi capitolo 50 versetto 5 che dice Radunate tutti i miei fedeli, anzi andiamo a vedere un'altra versione, cosa dice? Anche questo dice fedeli, vediamo, si, da dire a questo, anche questo dice fedeli, scusatemi, I miei fedeli, scusatemi, sto cercando una versione che mi dice, e ora non... Va bene, comunque torniamo su questa versione qui, che dice, Adunate mi dice i miei fedeli che hanno fatto me con un patto mediante sacrificio, E i cieli proclameranno la sua giustizia perché Yehawah stesso sta per giudicare, Ascolta, popolo mio, ed io parlerò, ascolta, oh Israele, oh Israele, avete visto? Qual è il popolo del padre? Il popolo del padre è Israele, Perciò quando torniamo qui, ok, mi sa che eravamo al versetto 9, Ok, dopo queste cose, andiamo a vedere una versione più, Dopo queste cose, guardai e vedi una folla immensa che nessuno poteva contare, Proveniente da tutte le nazioni e tribù, popolo e lingue, Che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello che Yehawah Shai, Vestiti di bianche veste e con delle palme in mano, E gridavano a gran voce dicendo, La salvezza patiene al nostro Dio e nostro potere, Yehawah, che siede sul trono e all'agnello Yehawah Shai, E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, Gli anziani e alle quattro creature viventi, Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorano Yehawah dicendo, Amen, al nostro potere, la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza. Nei secoli dei secoli, Amen, Questa parola è in ebraico antico, la parola giusta sarebbe Aman, ok? Perciò questa sarà un'altra lezione perché hanno fatto una cosa qui per far diventare questa parola qui. E andiamo avanti. Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi, Chi sono queste persone vestite di bianche e da dove sono venute? Io gli risposi, Anzi, io gli risposi, Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse, Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro veste e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Yehawah Shai. Perciò sono davanti al trono del padre Yehawah e lo servono giorno e notte nel suo tempio e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro, ok? E questo popolo, avete visto, dice che sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Qual è questa grande tribolazione? Non è altro di quello che si vede nel libro di Geremia, che è la distesa di Giacobbe, che vi ho sempre predicato su questa roba qui, che è il tempo ad avvenire, ok? Questo è il tempo che stiamo per arrivare. È il tempo in cui, dopo il vaccino, sarà obbligatorio il microchip. E senza il microchip nessuno potrà comprare né vendere. E tanti santi, tanti figli di Israele, saranno perseguitati quei giorni là, ok? Questo è il momento che sta arrivando. Leggiamo qui dal libro di Geremia, capitolo 30, versetto 7, dice Ehi me, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai altro di simile. È un tempo di angoscia per Giacobbe. E chi è Giacobbe? Giacobbe è Israele, ok? Ma tuttavia egli ne sarà salvato, ok? La salvezza è quello che abbiamo visto qui, che è nel libro di Apocalisse, capitolo 7, eravamo in versetto 14. Io gli risposi, Signor mio, tu lo sai? Ed Egli mi disse, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, ok? È quello che abbiamo appena letto. Essi hanno lavato le loro veste e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perché? Perché, perciò, sono davanti al trono degli Hawa e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sette. Non li colpirà più il sole né alcuna assura, ok? E che cosa si intende qui? Scusatemi. Cosa si intende qui? Si intende che dopo tutta questa tribolazione, appena torna Yahawashae, i suoi fedeli avranno il dominio di questa terra. Avranno il dominio di questa terra e non dovranno più soffrire, ok? È quello che si intende qui, ok? Non li colpirà più il sole né alcuna assura. Vuol dire che non soffriranno più, ok? Non vedranno più l'inferno come stanno vedendo adesso. Perché l'agnello, Yahawashae, che è in mezzo al trono, li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Yahawas asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, ok? Per darvi più capienza di questo periodo qui, cosa succederà? Andiamo a vederlo. Si trova nel libro di... Scusatemi. Si trova nel libro di Isaia, capitolo 14, e capitolo... Leggiamo da capitolo... Versetto 1. E questo sarà la fine, ok? Di questo popolo che sarà salvato, ok? Per non dirvi... Sì, vi ricordo sempre che anche i due terzi di Israele che saranno distrutti, che si trova nel libro di... di Carrier... 4. No, scusatemi. Ora non mi ricordo più che... Vi la trovo subito, perdonatemi. Ops, scusatemi. che... Ezecaria 13, 8. Infatti avevo ragione che era il libro di Zaccaria, ma il versetto non mi ricordavo. Zaccaria 13, 8. Poi torniamo al libro di Isaia. Questo è per farvi vedere che i due terzi saranno distrutti nella casa di Israele. Dice... In tutto il paese avverrà, dice Yehawah, che i due terzi saranno sterminati per l'Irano, ma l'altro terzo sarà lasciato. Ok? E questo terzo che sarà lasciato è il popolo che abbiamo appena letto nel libro di Apocalisse. Dopo i 144.000, ok? Il nuovo regno sarà guidato dagli Ahawashai, figli dei padri, ok? A seguire saranno i 144 eletti, ok? Che sono... che sono coloro che guideranno sui regni, ok? Saranno governi su tutte le nazioni, ok? e poi a seguire sono un terzo, ok? Un terzo che è il popolo grande che avete visto, ok? Poi, andiamo a vedere come sarà la fine, come sarà la fine quando dice che loro non soffriranno più, che abbiamo letto alla fine del capitolo 7 dell'Apocalisse, lì, e questo si trova sul libro di Isaia, e dice, dal versetto 1, il Signore Yehawah infatti avrà pietà di Giacobbe, e Giacobbe è Israele, ok? Sceglierà ancora Israele, e li ristabilirà sul loro suolo, lo straniero si unirà a essi e si stringerà alla casa di Giacobbe, e questo straniero che sta dicendo sono i figli di Israele che sono sparsi, ok? che sono diventati stranieri, ok? E dice, i popoli li prenderanno e li ricondurranno al loro luogo, e la casa di Israele li possederà nel paese del Signore come servi e come serve, ok? Essi terranno prigionieri quelli che li avevano fatto prigionieri e domineranno sui loro oppressori, scusatemi, ho sbagliato qui, ok? Qui sta parlando, scusatemi, ritorno a leggere da capo, mi ero confuso di qualcosa, il Signore infatti, il Signore Yahweh infatti avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e li ristabilirà sul loro suolo, lo straniero si unirà a essi e si stringerà alla casa di Giacobbe, ok? I popoli li prenderanno e li ricondurranno al loro luogo e la casa di Israele li possederà nel paese del Signore Yahweh come servi e come serve. Essi terranno prigionieri quelli che li avevano fatti prigionieri e domineranno sui loro oppressori. Avete visto? È questo che succederà alla fine, ok? Coloro che ci stanno oppressando adesso diventeranno i nostri servi iniziando da tutte queste grandi famiglie bancarie, ok? I re, le regine di questo mondo, di questo regno diventeranno i nostri servi, ok? Il giorno che il Signore ti avrà dato riposo dal tuo affano, dalle tue agitazioni e dalla dura schiavitù alla quale eri stato assoggettato, tu pronunzierai questo canto sul re di Babilonia e li dirai, ok? Allora, questo re di Babilonia sta parlando di America, ok? E se volete cominciare a leggere, continuate a leggere vedete qui questo queste sono le cose che succederanno, ok? E sì, noi non non avremo più sofferenze, ok? Saremo i capi del mondo, ok? E coloro che ci hanno portato in schiavitù saranno i nostri schiavi, ok? Perciò per fare un epilogo veloce torno a leggervi il libro di Apocalisse 7 e inizio leggendo comunque leggo velocemente tutto e chiudo dopo questi vedi i quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra né sopra i mari né sugli alberi poi poi vedi un altro angelo che saliva sul suo levante il quale aveva il sigillo del Yahweh vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare dicendo non danneggiare la terra né il mare né gli alberi affinché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro potere Yahweh e udì numero di coloro che furono segnati con il sigillo 144 mila segnati di tutte le tribù dei figli di Israele e non sta parlando altro della distruzione che sta per arrivare attraverso le bombe nucleari allora questo angelo ha detto ai quattro angeli che lanceranno queste distruzioni di non lanciarlo ok di aspettare affinché possano essere sigillati avete visto la parola sigillo che dicevo che possano essere sigillati gli eletti ok della casa di Israele ok infatti vi sto dicendo è questo che il padre sta aspettando una volta che vengono sigillati i 144 mila eletti verrà giù l'inferno ok e siate pronti comunque perciò cercate il padre in sincerità ok pregate affinché vi possa curare di tutti i vostri maligni di tutte le cose che state facendo che non sta andando bene ok fate vedere il padre Yahawa il suo nome Yahawa e pregate nel nome di suo figlio Yahawa venite fuori dalle religioni ok venite fuori da quelle chiese ok siete voi la chiesa e si leggendo giù si vede che sono 12.000 per tribù ok poi dopo queste cose guardai e vedi una folla immensa che nessuno poteva contare proveniente da tutte le nazioni tribù popoli lingue che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello Yahawa vestito di bianche veste e con delle palme in mano questi sono il tezzo che sarà salvato ok come abbiamo letto dal libro di zaccaria ok e tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono agli anziani e alle loro alle quattro creature viventi e si postravano con la faccia davanti al trono e adorano Yahawa dicendo Amman al nostro potere la lode la gloria la sapienza il ringraziamento l'onore la potenza e la forza nei secoli dei secoli Amman poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi chi sono queste persone vestite di bianchi da dove sono venute io gli rispose signor mio tu lo sai ed egli mi disse sono quelli che vengono dalla grande tribolazione qual è questa grande tribolazione è la tribolazione che vi ho parlato le cose che stanno per arrivare ok il tempo dell'angoscia di Giacome che abbiamo letto dal libro di Geremia capitolo 30 il versetto 7 ok questo è quello che sta per accadere adesso che senza questo marchio della bestia che è il microchip nessuno potrà comprare né vendere ok tanti perderanno proprio il cervello quei giorni là ok e tanti che decideranno di non prenderlo verranno perseguitati verranno uccisi ok e sono questo questi qua che ci tengono davvero alla verità ok che altro dice che non soffriranno più non avranno più fame non avranno più sete non li colpirà più sole né alcune assura scusatemi ho stanottito stanottito scusatemi perciò spero che questa lezione lezione vi è edificato spero che avete capito proprio di che cosa si parla nel libro di Apocalisse capitolo 7 e si Yahweh Bahashem Yahweh Shai volendo farò anche quello del capitolo 8 ok e detto questo lascio tutto nel nome del padre Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Burkak Quaddash e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità e come sempre Shalom e pace alla casa di Israele a coloro che con sincerità cercano la verità e fanno arrivare ai quattro lati della terra alla prossima Shalom